Allora può aiutarci a riavere le nostre figlie? L'esorcismo è un rituale. Ogni cultura, ogni religione usano tutti metodi differenti. Ci serviranno tutti quanti. Non avere paura. Ci siamo già incontrati. Mamma! Ma ti prego, farlo smettere, fa male! Mamma, ti prego! Cosa ha fatto? Il battito di Katrin. Battono all'unisono. Dio vi ha fatto uno scherzo.